È il terzo anno con la pausa del Covid di una azione importante di prevenzione all'interno delle nostre scuole. I bambini di 4 anni delle scuole comunali, statali e anche paritarie della città vengono in queste settimane visitati all'interno delle proprie scuole da degli esperti appunto nella prevenzione dell'ambliopia. Il contributo del Lions Club e del Leo Club di Pesaro è fondamentale in questo tipo di iniziativa che testimonia quanto la cura e il benessere dei bambini della città sia a cuore è un'azione condivisa da più soggetti. Ecco, perché lo screening su questa particolare tipologia? È una tipologia di malattia che va affrontata in una tempistica molto precoce. Lo screening nella fascia di età della prima infanzia consente al bambino o la bambina di avere una vita sana se questa malattia viene diagnosticata precocemente. Le visite consistono in questo. Quando entriamo nelle scuole materne, un bambino alla volta viene accompagnato dalla maestra e noi che abbiamo predisposto i nostri strumenti per la visita, che sarebbe l'otto tipo con il quale facciamo la misurazione della vista su uno e sull'altro occhio e l'autorefratometro, che è uno strumento elettronico il quale determina in maniera autonoma quelli che potrebbero essere i problemi degli occhi. Lo scopo di queste visite è appunto quello di determinare precocemente, i bambini hanno 4 anni, eventuali difetti che potrebbero portare al cosiddetto occhio pigro, cioè all'esclusione proprio perché è difettato di uno dei due occhi, creando dei danni permanenti. Se viene diagnosticato in tempi utili, verso i 4-5 anni, con semplici cure si riesce a recuperare questo difetto e quindi in pratica a superare indenni tutta la problematica. Qual è la percentuale di bambini che soffre di questa malattia e che magari i genitori non lo sanno? Diciamo che sui bambini per ora visitati, su 120, 20 bambini li abbiamo trovati con dei problemi critici, per cui diciamo che non è proprio bassissimo la percentuale di questo tipo di problema. Un'iniziativa a cui la Regione Marche, in particolare anche il sottoscritto come Presidente della Commissione Sanità e Politica e Sociali, sarà sempre vicino. Benissimo, è un altro segnale importantissimo di ripresa, tutte queste attività di screening per i nostri ragazzi, per i nostri giovani sono importantissime e quindi la Regione Marche non può che sostenere queste nuove iniziative.